Oh, buongiorno! Comunque il qua... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No, nei quattro, di tanto in tanto incertumi, non ci può dire ora così all'improvviso. Ci sono dei tempi, è vero, molto risorgambini di nostra vita. E poi? Mi ritrovai tra le braccia di prima. Che la diritta mia aveva snarrito. Ma è possibile che un uomo come me, appunto, debba essere bersagliato, perciò, una punticina di fotografi. Allora, avevo dei regionari con me, cioè, tipo, i regionari, appunto, bellissimi. Allora ho detto, rompete assolutamente tutte quelle scatole che le vogliono rompere a me. Ci fu, appunto, un terrore terribile.